Quando ero matto, il soldino, prima di tutto chiedo licenza di premettere che ora sono savio, per questo anche povero, anche calvo, quando ero ancora io, voglio dire al riverito signor Fausto Bandini, ricco, e in capo avevo tutti i miei bellissimi capelli, è però provato, provatissimo, che ero matto, è un po' più magro, si intende, ma pur con questi occhi che mi sono rimasti da allora spauriti, nella faccia così tutta scritta, dagli atteggiamenti che prevedeva per le croniche pietà da cui ero afflitto. Per distrazione ogni tanto ci ricasco, ma sono lampi che Marta, saggia moglie, spegne subito in me con certe sue terribili paroline, per esempio l'altra sera. Cose di poco momento, vadiamo, che può mai accadere a un povero savio e savio povero, ridotto a vivere più ordinatamente di una formica. Quanto più tenue la tela, tanto più delicato il ricamo. Ho letto una volta, non so dove, ma prima di tutto bisognerebbe saper ricamare. rincasavo. Non si può dare, credo, maggior fastidio di quello che l'insistenza d'un mendicante cagiona quando non sabbia il soldo in tasca e quegli ci veda all'aria dispostissimi a darglielo. Era nel caso mio, una ragazza. Senza interruzione, con voce piagnucolosa, da un quarto d'ora mandava ripetendo dietro le stesse frasi, due o tre. Io, sordo, senza guardarla, a un certo punto mi lascia, in veste e sappiccica come una mosca tavana a una coppia di sposi novelli. Glielo daranno il soldino, dico tra me. Ah, tu non sai, ragazza. La prima volta che gli sposi novelli van per via a braccetto, credono di aver tutti gli occhi del mondo appuntati addosso. Sentono l'impaccio delle cose nuove che tutti quegli occhi veggono e suppongono in loro, e non sanno noi possono fermarsi a far l'elemosina al povero. Sento poco dopo, difatti, qualcuno che mi corre dietro gridando, signorino, signorino. E rieccola, quel piagnisteo monotono di prima. Non ne posso più. Le grido esasperato, no! Peggio, come se con quel no avessi dato l'astura a un altro paio di frasi tenute in serbo in previsione del caso. Sbuffo una prima volta, sbuffo una seconda, finalmente, alzo il bastone. Così! Quella si tira da un canto, levando istintivamente il braccio a riparo della testa e di sotto il gomito mi geme. Anche due centesimi! Dio, che occhi apriva quel volto smunto, citrino, sotto i capelli rossastri abbatuffolati. Tutti i vizi della strada vermicavano, vermicavano in quegli occhi, e la precocità li rendeva spaventevoli. Non metto alcun punto esclamativo perché, ora che son savio, nessuna cosa deve più farmi maraviglia. Già prima di vederle quegli occhi, ero pentito dell'atto di minaccia. Quanti anni hai? La ragazza mi guarda di traverso, senza abbassare il braccio, e non risponde. Perché non lavori? Magari, a trovarne, non trovo. Non cerchi, le dico, riavviandomi, perché hai preso gusto, ecco te sto bel mestiere. Manco a dirlo con lei, mi seguì ripigliando l'affliggente cantilena, che aveva fame, le desse qualcosa, per amor di Dio. Potevo cavarmi la giacca e dirle, tieni, chissà, in altri tempi forse se l'avrei fatto. Ma già in altri tempi avrei avuto in tasca il soldino. Mi nacque improvvisamente un'idea, nella quale sento il dovere di scusarmi al cospetto della gente savia. Lavorare è senza dubbio un buon consiglio, ma si fa così presto a darlo. Mi sovvenne che Marta cercava una servetta. E si badi. Qualifico pazzia quest'idea improvvisa, non tanto per la trepida gioia che mi suscitò, e che riconobbi prima benissimo, per averla altre volte provata tal quale, quando ero matto. Specie d'ebbrezza barbagliante che dura un attimo, un lampo nel quale il mondo sembra dia un gran palpito e sussulti tutto dentro di noi. Quanto per le riflessioni da povero savio con cui cercai subito di puntellare quell'ebbrezza in me. Pensai, purché questa ragazza si dia da mangiare, da dormire e qualche veste smessa, ti servirà senza pretendere altro. Sarà pure un risparmio per Marta. Così, senti, disse alla ragazza, soldi non te ne do. Vuoi davvero lavorare? Si fermò a guardarmi un tratto, con quegli occhi scontrosi, sotto le ciglia odiosamente agglottate. Poi chieno più volte il capo. Sì? Ebbene, vieni allora con me. Ti darò io da lavorare a casa mia. La ragazza si fermò di nuovo, perplessa. E mamma? Andrei a dirglielo dopo. Adesso vieni. Mi pareva di camminare per un altro viale. E che, mi vergogno a dirlo, case e alberetti fossero in preda all'agitazione che provavo io. E l'agitazione crebbe, crebbe di punto in punto, appressandomi a casa. Che avrebbe detto mia moglie? In un modo più balordo non avrei potuto presentarle la proposta, valbettavo. E certo, certissimo, questo modo balordo dovette contribuire non solo a fargliela respingere, come era giusto, ma anche a farla arrabbiare, povera Marta. Ma se io, ora che sono divenuto savio, col timore continuo che mi scappi qualche stramberia, non so più dire due parole, una dopo l'altra. Basta. Mia moglie non si lasciò sfuggire l'occasione di ripetermi quel suo terribile, ancora, ancora, che per me è peggio di una doccia sorpresa. Poi mandò via la ragazza senza neanche volerle dare qualcosina, perché disse, per quel giorno l'emosina era fatta. E realmente Marta, l'emosina la fa ogni giorno, badiamo. Dà un soldino al primo povero che capita. E quando ha dato quel soldino e ha detto, raccomandami alle anime sante del purgatorio, si è messa in pace con la coscienza e non vuol sentire altro. Intanto io penso e dico, quella ragazza, se non è già perduta, certo sarà tra breve. Sì, ma che deve importarmene? Io ora sono divenuto savio e a queste cose non devo più pensare, né punto né poco. Pensare a me. Questa è la mia nuova divisa. Se ne è voluto per persuadermi a intestarne tutti gli atti di questa mia nuova vita, chiamiamola così. Ma come Dio vuole, non facendo nulla. Basta. Se io ora, per modo d'esempio, mi fermo sotto la finestra di una casa, dove sappia c'è gente che piange. Ebbo subito vedere a quella finestra la mia smarrita, sparuta immagine, la quale, affacciandosi, ha l'obbligo espresso di gridarmi di lassù, crollando un po' il capo e appuntandosi l'indice d'una mano sul petto. E io, così, sempre, e io, in ogni occasione, che è qui la base della vera saggezza. Quando ero matto, invece, quando ero matto, non mi sentivo in me stesso, che è come dire non stavo di casa in me. Ero infatti divenuto un albergo aperto a tutti, e se mi picchiavo un po' sulla fronte, sentivo che vi stava sempre gente alloggiata. Poveretti che avevano bisogno del mio aiuto, e tanti, tanti altri inquilini avevo parimenti nel cuore. Ne si può dire che gambe e mani avessi tanto al servizio mio quanto a quello degli infelici che stavano in me, e mi mandavano di qua e di là, in continua briga per loro. Non potevo dire io, nella mia coscienza, che subito un eco non mi ripetesse io, 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 da parte di tanti altri, come se avessi dentro un passeraio. E questo significava che se, poniamo, avevo fame, e lo dicevo dentro di me. Tanti e tanti mi ripetevano dentro, per conto loro, ho fame, ho fame, ho fame, a cui bisognava provvedere, e sempre mi restava il rammarico di non potere per tutti. Mi concepivo, insomma, in società di mutuo soccorso con l'universo. Ma siccome io allora non avevo bisogno di nessuno, quel mutuo aveva soltanto valore per gli altri. Il bello intanto era questo, che credevo di ragionare la mia pazzia. Anzi, se devo dire tutta la verità senza vergognarmi, ero fin anche arrivato a tracciare lo schema ad un trattato sui generis che intendevo scrivere col titolo Fondamento della Morale. Ho qui nel cassetto gli appunti per questo trattato, e ogni tanto di sera, mentre Marta si fa di là il solito pisolino dopo cena, li cavo fuori, e me li rilego pian piano, di nascosto, con un certo godimento, e anche una certa meraviglia, lo confesso, perché è innegabile che io ragionavo pur bene quando ero matto. Dovrei veramente riderne, ma forse non ci riesco per il motivo affatto particolare, che quei ragionamenti erano per la maggior parte diretti a convertire quella disgraziata, che fu la mia prima moglie, della quale parlerò appresso, per dare la più lampante prova delle segnalate pazzie di quei tempi. Da questi appunti, argomento che il trattato del fondamento della morale dovesse, nel mio concetto, consistere di dialoghi tra me e quella mia prima moglie, o forse d'apologhi. Un quadernetto, ad esempio, intitolato Il giovane timido. E certo in esso alludevo a quel buon ragazzo, figlio di un mercante di campagna in relazione ad affari con me, il quale, mandato dal padre, veniva a trovarmi in città. E quella disgraziata lo invitava a desinare con noi per divertirsi un po' alle spalle di lui. Trascrivo, bel quadernetto. Dimmi, o Mirina, o che occhi sono i tuoi? Non vedi che codesto povero giovane si è accorto che tu intendi prenderti giuoco di lui? Lo stimiciocco è invece soltanto timido. Così timido che non sa ritrarsi alla berlina a cui lo metti, quantunque ne soffra dentro. Se la sofferenza di questo giovane, o Mirina, non rimanesse per te allo stato di segno apparente che ti fa ridere, e tu non avessi soltanto coscienza del suo tristo piacere, ma anche nello stesso tempo del dolore di lui, non ti par chiaro che cessaresti di farlo soffrire, perché il piacere ti sarebbe turbato e distrutto dalla coscienza dell'altrui dolore. Tu agisci dunque, Mirina, senza l'intero sentimento della tua azione, della quale provi l'effetto soltanto in te medesima. Così, per un matto, via, non c'è male. Il male è che non comprendevo che altro è ragionare, altro è vivere, e la metà o quasi dei disgraziati che si tengono chiusi negli ospizi non sono forse gente che voleva vivere secondo comunemente in astratto si ragiona. Quante prove, quanti esempi potrei qui citare, se ogni savio oggi non riconoscesse tante cose che si fanno nella vita, o che si dicono, e certi usi e certe abitudini, esser proprio irragionevoli, di modo che è matto chi li ragioni. Tale in fondo ero io, tale nel mio trattato mi dimostravo. Non me ne sarai accorto se Marta non mi avesse prestato i suoi occhiali. Per curiosità, intanto, coloro che non si vogliono tenere paghi di Dio, perché lo dicono fondato in un sentimento che non ammette ragione, potrebbero vedere in questo mio trattato come io però lo ragionassi. Se non che, convengo adesso, che questo sarebbe un Dio difficile per la gente savia e anzi addirittura impraticabile perché, chi volesse riconoscerlo, dovrebbe agire verso gli altri come agivo io una volta, cioè da matto, con uguale coscienza di sé e degli altri. Perché sono coscienze come la nostra? Che facesse veramente così e alle altre coscienze attribuisse l'identica realtà che alla propria avrebbe per necessità l'idea di una realtà comune a tutti, una verità e anche di una esistenza che si sorpassa. Dio! Ma non per la gente savia, ripeto. È curioso intanto che Marta, mentre io, seguendo la nostra vecchia abitudine di leggere qualche buon libro prima ad andare a letto, leggo per esempio i fioretti di San Francesco, mi interrompa di tratto in tratto esclamando con riverenza e piena d'ammirazione. Che santo! Che santo! Così sarà tentazione del demonio, ma io abbasso il libro sulle ginocchia e sto a guardarla. Se lo dica proprio sul serio, davanti a me. Per essere logici, via! San Francesco per lei non dovrebbe essere savio, e io ora... Ma già, mi persuado che i savi debbano essere logici fino a un certo punto. Torniamo a quando ero matto. Sul cadere della sera in villa, mentre da lontano mi giungeva il suono delle cornamuse che aprivano la marcia delle frotte dei falciatori di ritorno al villaggio, con le carrette cariche del raccolto, mi pareva che l'aria tra me e le cose intorno diventasse a mano a mano più intima e che io vedessi oltre la vista naturale. L'anima, intenta e affascinata da quella sacra intimità con le cose, discendeva all'imitare dei sensi e percepiva ogni più lieve moto, ogni più lieve rumore. E un gran silenzio attonito era dentro di me, sicché un frullo d'ali vicino mi faceva sussultare e un trillo lontano mi dava quasi un singulto di gioia, perché mi sentivo felice per gli uccelletti che in quella stagione non pativano il freddo e trovavano per la campagna da cibarsi in abbondanza. Felice, come se il mio alito li scaldassi e io li cibassi di me. Penetravo anche nella vita delle piante e man mano dal sassolino al fil d'erba assorgevo, accogliendo e sentendo in me la vita ad ogni cosa, finché mi pareva di divenir quasi il mondo. Che le alberi fossero mie membra, la terra fosse il mio corpo e i fiumi le mie vene e l'aria la mia anima. E andavo un tratto così, estatico e compenetrato in questa divina visione. Svanita restavo anelante, come se davvero nel gracile petto avessi accolto la vita del mondo. Mi rimettevo a sedere ai piedi di un albero e allora il genio della mia follia cominciava a suggerirmi le più strane idee. Che l'umanità avesse bisogno di me, della mia parola esortatrice, voce d'esempio, parola di fatto. A un certo punto mi accorsevo io stesso che deliravo e allora mi dicevo rientriamo, rientriamo nella nostra coscienza. Ma ci rientravo non per vedere me, ma per veder gli altri in me come essi si vedevano, per sentirli in me come essi in loro si sentivano e volerli come essi si volevano. Ora, concependo e riflettendo così nello specchio interiore della coscienza agli altri esseri con una realtà uguale alla mia e per tal mezzo anche l'essere nella sua unità, un'azione egoistica, un'azione cioè nella quale la parte si erige al posto del tutto e lo subordina. Non era naturale che mi apparisse ragionevole? Ahimè, sì. Ma mentre io per le mie terre camminavo in punta di piedi e curvo per vedere di non calpestare qualche fiorellino o qualche insetto, dei quali vivevo in me la tenue vita ad un giorno, gli altri mi rubavano la campagna, mi rubavano le case, mi spogliavano addirittura. E ora eccomi qua. Ecce Omo, Mirina. Il cero benedetto, il cero della buona morte, che quella santa donna sarà portata dalla chiesa madre del paesello natale, faceva ora il suo ufficio. Ma aveva custodito tanti anni per sé in fondo all'armadio. E ora esso ardeva su un lungo candeliere di piombo e quasi vegliava quei ricordi umili e cari del lontano paese, struggendosi in lacrime sul fusto, dietro il capo della morta già stesa sul pavimento, dentro la bara ancora scoperta, nel posto occupato prima dal letto. Ogni qualvolta mi viene in mente la mia prima moglie, mi seffaccia con straordinaria lucidità questa funebre visione. La santa donna stesa in quella bara è Amalia Sanni, la sorella maggiore, e vorrei dire alla madre di Mirina. Rivedo la camera modestissima e oltre al cero benedetto, altri due ceri più piccoli che si consumano più presto a piede la bara, crepitando di tratto in tratto. Io me ne sto seduto presso la finestra, è come se la sciagura in attesa mi avesse più stordito che addolorato. Guardo i parenti e gli amici convenuti per quella morte. Gente savia e da bene, mi guarderei dal legarlo, ma che peccava di troppo zelo nel farmi accorgere dell'antipatia che sentivano per me. Certo ne avevo ragione, ma non mi aiutavano così ad insalire, che io anzi da quei loro sguardi traevo argomento di compatirli sinceramente. Io amavo Amalia Sanni come una sorella. Ne conosco ora in lei un solo torto. Questo, che la sua anima s'accordava in tutto e per tutto con la mia nel concepir la vita. Non direi però che la era matta. Direi tutt'al più che Amalia Sanni non fu savia, come San Francesco. Perché non c'è via di mezzo, o si è santi o si è matti. Con cura tutte e due ci sforzavamo di ridestare l'anima in Mirina, senza pertanto sciupare la freschezza della sua sconnessa e quasi violenta vitalità, senza mortificare per nulla quel suo minuscolo corpicino di bambola pieno di vivacissime grazie. Volevamo insegnare a una farfalla a non chiuder le ali e non volar più, ma a non andare a posarsi su certi fiori velenosi. Senza intendere che per la farfalla quel che a noi pareva veleno era il proprio cibo. Basta, non voglio qui dilungarmi a narrare la mia infelice esistenza coniugale con Mirina. Dirò solo che ella detestava in me quel che ammirava in sua sorella. E quest'ora mi sembra naturalissimo. A un tratto, nella camera mortuaria, entrò sbuffante una delle cugine di mia moglie, di cui non ricordo più il nome. Pingue Nana, con un grosso paio d'occhiali rotondi che le ingrandivano mostruosamente gli occhi. Poverina. Si era recata all'aperto a raccogliere qua e là quanti più fiori aveva potuto. Nelle vicinanze della villetta. E ora veniva a spargerli sulla morta. Aveva nei capelli scompigliati il vento che urlava fuori. Gentile e pietoso quel pensiero. Ora lo riconosco. Ma allora? Ricordavo che pochi giorni addietro, Amalia, nel veder Mirina ritornare alla villetta con un gran fascio di fiori, aveva esclamato, tutta afflitta. Peccato. Perché? Nella sua santità, difatti, ella riteneva che quei fiori di campo non nascono per gli uomini, ma sono come il riso della terra che esprime gratitudine al sole per il calore che esso le dà. Strappare quei fiori era per lei una profanazione. Io, matto, confesso che non seppi resistere alla vista della morta coperta di quei fiori, non dissi nulla. Me ne andai. Ricordo ancora l'impressione che mi fece quella notte, l'improvviso spettacolo della natura tutta quasi in fuga nell'urlante veemenza del vento. Fuggivano squarciate per il cielo con disperata furia le nuvole a schiera infinita. E pareva che si trascinassero seco la luna pallida dallo sgomento. Gli alberi si scontorcevano, stormendo, cigolando, spasimando senza requie, come per sradicarsi e fuggire pur là, pur là dove il vento portava le nuvole a un tempestoso convegno. L'anima mia, che nell'uscir dalla villetta era tutta chiusa nel cordoglio della morte, a un tratto si aprì, come se il cordoglio stesso si fosse spalancato al cospetto di quella notte. Altro dolore immenso, mi pare, che fosse nel cielo misterioso, in quelle nuvole squarciate e trascinate, altra pena arcana, nell'aria infuriata e urlante di quella fuga. E se così gli alberi muti si agitavano, anche uno spasimo ignoto doveva certo essere in loro. A un tratto un singhiozzo, quasi un bollo di paurosa luce in quel mare di tenebre. Un ciurlo da siguolo, nella valle giù, e lontano gridi di terrore, i grilli che scampanellavano di là, verso la collina. Investito dal vento, andai tra gli alberi. A un certo punto, non so perché, mi voltai a guardare verso la villetta che mi presentava l'altro lato. Dopo aver guardato un pezzo, improvvisamente mi protesi a discernere tra il buio se quel che mi sembrava di vedere fosse vero. Presso la finestra bassa della camera in cui Mirina si era ritirata a piangere la sorella, stava e si agitava come un'ombra. Poteva essere negli occhi miei quell'ombra. Me li stropicciai così forte che per un attimo dopo non riuscii a discernere più nulla, quasi che una tenebra più fitta. Fosse caduta intorno per impedirmi di non vedere, ma di credere a ciò che mi era apparso di vedere. Un'ombra che gestiva, l'ombra di un albero agitato dal vento. Tanto era lontano da me il sospetto che mia moglie mi tradisse. Veramente mi sembra di non presumer troppo pensando che in una notte come quella sarebbe stato lontano da tutti un tal sospetto e che forse tutti come me, quando mi accorsi che quell'ombra era proprio un uomo in carne e ossa, avrebbero ritenuto che fosse un ladro notturno e come me sarebbero corsi di soppiatto a prendere uno schioppo per intimorirlo, anche sparando in aria. Se non che io, quando scoprì che genere di ladro fosse colui, non gli sparai ne sparai in aria. Appostato lì, chino, all'angolo della cascina, vicinissimo alla prima finestra dove essi parlavano tra loro, in preda a continui brividi taglienti come rasoiate alla schiena, mi sforzavo di udire ciò che dicevano. Udivo soltanto mia moglie, atterrita dall'incredibile audacia di colui. Lo spingeva ad andarsene. Parlava anche lui, ma così basso e affrettatamente che non solo non riuscivo a intendere le sue parole, ma dal suono della voce non potevo ancora riconoscerlo. Vattene, vattene, insisteva lei, e tra le lacrime aggiunse altre parole che mi impietrarono di più. Entravì di tutto. Egli era venuto in quella notte tempestosa per chiedere le notizie dell'inferma. Ed ella gli disse, l'abbiamo uccisa noi. Ah, dunque Amalia aveva saputo, aveva scoperto prima di me il tradimento. Che colpa, che colpa! No, disse gli forte e smanioso un tratto. Vardi, lui, Cesare Vardi, il mio vicino. Lo riconobbi, lo vidi nella sua voce. Tozzo e solido, quasi nutrito di terra, di sole ed aria sana. Udì subito dopo le persiane raccostarsi con violenza, come se il vento avesse aiutato le mani di lei. Udì che egli si allontanava. E io non mi mossi dalla positura in cui mi ero messo. Seguì con l'udito, rattenendo il fiato, i suoi passi, più lenti assai dei battiti del mio cuore. Poi mi rialzai in preda al primo sbalordimento, e allora quel che avevo veduto e inteso quasi non mi parve più vero. Possibile, possibile, dicevo a me stesso, errando di nuovo per la campagna tra gli alberi, come ebbro. Usciva dalla gola un mugolio sordo, continuo, che si confondeva col violento stormire delle foglie, come se il mio corpo ferito si dolesse per suo conto, mentre l'anima sconvolta, stupita, non gli badava. Possibile, intesi alla fine quel mugolo che partiva da me, e mi arrestai arrangolato, e mi afferrai forte, con l'una mano e con l'altra gli omeri, incrociando le braccia sul petto, quasi per trattenermi e sedetti per terra. Ruppi allora in singhiozzi disperati, piansi e piansi, poi spossato e alleggerito, cominciai a esortar me stesso. Ma dirò solo quello che feci, dopo aver pensato a lungo. Sarà meglio. Ormai sono passati tanti anni, commuovermi ancora di questa mia vecchia sciagura, temo che non sia degno di un uomo savio. Tanto più che pare, anzi, è certo, mi diportai malissimo. Levatomi dunque da terra, mi misi a errar di nuovo. A un tratto mi sentii quasi forzato a nascondermi ancora una volta, e mi accoccolai dietro la siepe che limitava il mio campo da quello di lui. Il Vardi ritornava lentamente alla sua villa. Nel passare davanti a me, nascosto dalla siepe, lo sentii sospirare profondamente nella notte. Quel sospiro me lo avvicinò tanto che quasi ne provai ribrezzo. Ah, per quel sospiro fui proprio sul punto ad ucciderlo. Potevo, solo che avessi alzato un po' il fucile, anche senza darmi la pena di prendere la mira, tanto vicino mi passava. Lo lasciai passare. Ritornato di corsa alla villetta, trovai che i parenti si erano ritirati dalla camera della morta e che soltanto due servi erano rimasti a vegliare. Mi dispensai dal triste ufficio, dicendo che avrei vegliato io. Mi trattenne un po' a contemplare mia cognata, che mi sembrò più tranquilla, più serena, come se, morta dentro l'ombra della colpa di cui aveva voluto osservare l'orrendo segreto, ora ne fosse uscita, poiché io sapevo tutto. Entrai quindi nella camera di Mirina. La trovai che piangeva. Appena mi vide, si cangiò in volto. Non temere, le dissi. Vieni con me. Dove? Con me. Non avrai più rimorsi. Che intendi dire? Io voglio fare, non dire. È quello che tu vuoi. Vieni intanto, ti farò vedere. La presi per mano, la tirai. Tremante, fremente, ella si lasciò trascinare fino alla camera della morta. Le additai la sorella. Vedi, le dissi. Ora ella ti perdona e tu puoi ripetere a me che l'hai uccisa tu. Io? Sì, come hai detto poc'anzi dalla finestra a lui. Zitta, non gridare. Non ti fa nulla. Andrai ora stesso via da questa casa. Non piangere. È la tua prigione. Voglio liberarti. Cadde in ginocchio, con la faccia per terra, supplicando perdono, pietà. La aiutai subito a rialzarsi, imponendole di far silenzio. La tirai fuori dalla stanza. Dove? Dove? Chiedeva lei angosciosamente. Dove tu vuoi, non temere. E se vuoi essere punita, sarà punizione. E se puoi ancora godere, godrai liberamente. Ti libero. Ti libero. Avevo ancora lo scappo in spalla. Ah, come ella me lo guardò, sospettando, ragionevolmente che con le buone volessi attirarla fuori. Me ne accorsi, sorrisi amaramente, e corsi a posar l'arma in un angolo della saletta. Non voglio farti male, no. Che doverei tu d'ammazzarmi per forza. Dove mi conduci? Da lui, che t'aspetta. Entrando in una casa, pensavo io allora, dobbiamo contentarci della sedia che l'ospite può offrirci, senza stare a pensare se dall'albero, donde quella sedia fu tratta, altra sedia di miglior foggia o di maggior dimensione avremmo tratta noi, per il nostro gusto e per la nostra statura. Per Mirina erano troppo alte le sedie di casa mia. Sedendo restava con le gambe spenzolate, ed ella voleva sentire sotto i piedi la terra. Ma avevo promesso di riferire soltanto quello che feci. Bene, passi questo breve saggio di pazzia. Quanto sarebbe stato più spiccio tirare una fucilata? Ma... La tenevo per mano, all'aperto e le parlavo, andando. Non so bene quel che le dissi. So che a un certo punto ella svincolò il polso dalla mia mano e scappò via di corsa, di corsa, tra gli alberi, come portata dal vento. Io rimaci perplesso, sorpreso da quella fuga improvvisa. Pareva che ella mi seguisse così docile. Chiamai come un cieco. Mirina! Mirina! Era sparita nella tenebra, tra gli alberi. Errà in cerca, lungo, in vano. Ruppe l'alba. Cercai ancora, finché ogni dubbio non fu vinto dalla certezza che ella era andata da sola a rifugiarsi là, dove io, senza alcuna violenza, volevo condurla. Guardai il velato da strisce rade, che erano come la traccia superstite della gran fuga delle nuvole nella notte, e mi sentì stordito in mezzo a un silenzio nuovo, inatteso, con l'impressione vaga che qualcosa fosse venuta a mancare tutto intorno alla sera. Ah sì, ecco, il vento. Il vento era abbattuto, gli alberi erano immobili, e l'umida squallida luce di quell'alba. Quanta stanchezza in quella stupefatta immobilità. Ero sfinito anch'io, e mi posi a sedere per terra. Guardai le foglie degli alberi più vicini, e sentì che, se un soffio d'aria in quel momento fosse venuto a smuoverle, esse avrebbero forse provato lo stesso senso di dolore che avrei provato io se qualcuno fosse venuto a scuotermi una mano. Mi sovvenne a un tratto che la morta era sola nella villetta, che c'erano i parenti i quali forse a quell'ora si erano svegliati, e domandavano di me e di mia moglie. Balzai in piedi e via di corsa. Stimo inutile rappresentare a gente savia quel che seguì. Quei bravi parenti insorsero tutti alle mie parole, alle mie spiegazioni. Mi proclamarono pazzo, e anzi quella cugina pingue nana, dagli occhiali rotondi, mentre tutti vociavano, trasse dalla concitazione generale il coraggio di strillarmi in faccia con le pugni aserrate, imbecille. Aveva ragione poverina. Affrettarono il trasporto della defunta alla chiesa del prossimo villaggio, e mi lasciarono solo. Dopo due anni mi rivedo in viaggio. Il Vardi ha abbandonato Mirina, la quale sottratta alla miseria, al vizio, alla disperazione, vive in casa ad una parente. Ella è però in potere di un male orribile, e sta per morire. Col mio perdono, con la pace, io ho sperato, sognato di allegrarle gli ultimi giorni di vita, riconducendola alla nostra campagna. mi presento a lei in quella camera squallida, le dico, mi comprendi, ora? No, mi risponde lei, ritardando la mano che voglio carezzarle e guardandomi odiosamente. E anche lei, poveretta, aveva ragione. Scuola di saggezza. Per esercitar bene qualunque professione, si ha bisogno, come ognuno sa, anche di una certa larghezza di mezzi, la quale renda possibile aspettare le opportunità migliore senza buttarsi alle prime, come cani all'osso, che è la sorte di chi si trovi in ristrettezze e oggi debba ammiserire il proprio domani e se stesso e la professione sua? Ora, questo vale anche per la professione di ladro. Un povero ladro che debba vivere alla giornata su al finire sempre male. Un ladro invece che non sia in tali angustie e possa e sappia aspettare il tempo e preparare i modi, arriva ad alti e onoratissimi posti, con plauso e soddisfazione di tutti. Siamo dunque parchi, per carità, nell'accordare il merito della saggezza ai ladri di casa mia. Tutti quelli che esercitarono sulla mia cospicua ricchezza la loro professione non meritano l'encomia della gente savia. Potevano rubare con garbo, comodamente e con prudenza e avvedutezza e crearsi un'onorevole e rispettabilissima posizione e invece proprio senza alcun bisogno si affollarono a rubare e rubarono male naturalmente. Riducendomi in pochi anni alla miseria si tolsero il modo di vivere tranquillamente alle mie spalle e cominciarono presto, infatti, per loro, tanti grattacapi che prima non avevano. E so, e me ne dispiace, che qualcuno andò anche a finire male. Marta, mia moglie, è d'accordo con me in questo giudizio. Soltanto ella osserva che allora quando un povero uomo discretamente onesto si trova insieme con tanti ladri ingordi nell'amministrazione dei beni di un ricco imbecille o matto, che sarai io, la tattica della parsimonia nel furto non è più saggia. Il furto discreto, pacifico, giornaliero, non è più segno allora da vedutezza, ma di stupidaggine e di povero cuore. E questo sarebbe appunto il caso di Santi Bensai, mio segretario e primo marito della mia cara Marta. Il povero Santi, a cui devo se ora non sono ridotto all'elemosina, conosceva la mia ricchezza e stimava assaggiamente che essa avrebbe potuto servire con larghezza per me e per quanti come lui si fossero contentati di raschiarla discretamente, comodamente, senza cagionare troppi danni evidenti. Forse non tralasciò di consigliare, per comune interesse, moderazione anche ai suoi colleghi. Non fu certo ascoltato. Si creò nemici e soffersero un poco, poverino. Gli altri seguitarono a portarvia a balle e carra. Lui come una sobria formichetta. E quando io alla fine rimasi povero come Santo Giobbe, bisognava vedere il buon Santi molto, molto più afflitto di me. Egli aveva raggranellato di chi vivere modestamente e non si sapeva dar pace che quegli altri non si fossero degnati neppure di lasciarmi nella sua condizione. Carnefici, esclamava, lui che mi aveva tratto sangue a malapena zitto zitto con uno spillo. E più di una volta, vedendomi un po' troppo pallido, vuole trascinarmi per forza in casa sua a desinare. E lui non mangiava, dalla bile che lo rodeva furibondo contro quegli altri. Io stavo zitto e ascoltavo Marta, che fin da allora cominciò a darmi scuola di saggezza. Ella difendeva contro il marito i miei carnefici. Siamo giusti, diceva. Con qual diritto possiamo pretendere che gli altri si curino di noi quando noi continuamente dimostriamo di non aver nessuna cura di noi stessi. La roba del signor Fausto era roba di tutti e ciascuno se l'è presa. Non è tanto ladro il ladro quanto, scusi signor Bandini, quanto è imbecille chi si lascia rubare. E qualche altra volta diceva com'è infastidita. E zitta via, santi, imita il signor Bandini che almeno se ne sta zitto perché sa bene ora che non può lagnarsi di nessuno. Se egli infatti, senza che gli spettasse, pensò sempre agli altri. Che meraviglia che questi altri abbiano pensato a sé. Ha dato lui l'esempio e gli altri lo hanno seguito. Per me il signor Bandini è stato il più gran ladro di se stesso. E dunque in prigione, le domandavo io sorridendo. In prigione no, ma in qualche altro ospizio sì. Santi si ribellava. Il diverbio si accendeva e in vano io tentavo di metter pace dichiarando che alla fin fine quei tali, il più grande male, non lo avevano fatto a me che sapevo adattarmi a vivere comunque. Ma alla povera gente che aveva bisogno del mio aiuto. E lei dunque, ribatteva Marta, non ha fatto male soltanto a sé, ma anche agli altri. Ne conviene? Non pensando a sé, non ha pensato neanche agli altri. Doppio male. E non ne segue che tutti coloro che pensano soltanto a sé e fanno in modo di non avere mai bisogno di alcuno. Per questo soltanto dimostrano di pensare anche agli altri. Che farà lei adesso? Ha bisogno degli altri, ora? E crede che sarà per tutti un beneficio il dover mostrarsi grati. O che ti scappa di bocca, pettegola, scattava Santi a queste parole, temendo non mi paressero un raffaccio di quel po' d'aiuto che gli con tutto il cuore mi prestava. Marta placida e commiserandolo con lo sguardo gli rispondeva. Non dico per te. Che c'entri tu, Santi mio? Tu sei un pover uomo da bene. E veramente, se lo avessi lasciato fare secondo il suo affetto e la considerazione sua, mi sarei ridotto a vivere giorno e notte con lui. Non mi voleva lasciare un sol momento e mi chiedeva per grazia che io fossi contento di accettare i suoi servizi doverosi. Povero Santi! Ma con la povertà i fiumi della follia non m'erano per anche svaporati. Non volevo essere di peso a nessuno dei miei antichi beneficati e con garbo compassionevole mi portavo a spasso i miei cenci e la mia miseria e intanto cercavo di procacciarmi un lavoro, qualsi fosse, anche manuale, che mi desse modo di soddisfare ai miei pochi bisogni. Ma neppure questo garbava alla mia saggia maestra. Lavorare, mi diceva. Bello espediente! Lei non era nato per questo e ora toglierà, senza volerlo, il posto a un poveretto che forse si sarà incamminato per la via di quell'impiego che lei va cercando. Mi voleva dunque morto, la buona amica. Quel suo ragionamento mi colpì e non volendo togliere il posto a nessuno me ne andai lontano a chiedere ricetto a una famiglia di contadini, già miei dipendenti, ai quali di notte in cambio guardavo nel bosco la carbonaia con la scusa che non riuscivo mai a prendere sonno. Ah, dopo alcuni mesi mi giunse la notizia che il povero Santi Ben Sai era morto ad un colpo. Lo piansi come un fratello. Dopo circa un anno la vedova mandò a cercare di me, ma ero ridotto così male che non volevo assolutamente presentarmi a lei. Ora Marta non vuol dare a sé il merito di avermi salvato, ma se è vero che il Santi lasciò nel testamento una calda raccomandazione per me, alla moglie, è anche vero che ella poteva non tenerne conto. No, no, mi ripete lei, ringrazia Santi, buonanima, che ebbe almeno l'accortezza di mettere da parte questo poco denaro che era tuo per la nostra vecchiaia. Vedi, quello che tu non sapresti fare, lo fece lui per te. Peccato che gli mancasse il coraggio, poverino. E così io ora, savio, godo il frutto scarso della più savia tra le virtù, la previdenza di un mio povero ladro riconoscente e da bene.